bene signori e signori eccoci qua in questa situazione molto confusionata a presentarvi loro che festezza questa fantastica cosa tutti assieme allegramente 1996 ma andiamo a conoscere qualcuno ciao come ti chiami? Elena e tu? Andrea e Michi Chiara di dove siete? e festeggiate la la 96 96 96 burra 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 perché questa è la festa questo è il convento questa è la serata giusta per noi non no 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 Grazie a tutti.